lecce sassuolo 02 i giallorossi si presentano svogliati e vengono eliminati meritamente lecce contro sassuolo una prestazione deludente dei giallorossi lecce contro sassuolo una prestazione deludente dei giallorossi lo scorso fine settimana si è svolta una partita importante nella serie italiana in cui lecce ha affrontato sassuolo la partita si è conclusa con un chiaro 02 per gli ospiti di sassuolo evidenziando la deludente prestazione dei giallorossi le aspettative su lecce erano alte dato che la squadra giocava in casa e sperava di ottenere un punto ecco la traduzione del testo in italiano tuttavia non mostravano alcun segno di motivazione e passione il che ha portato a una sconfitta giusta i critici hanno sottolineato che i giocatori del lecce sembravano spesso inattivi e privi di ispirazione per tutto il match la mancanza di energia e la mancanza di volontà di vincere la partita erano evidenti e sono state notate sia dagli spettatori che dagli esperti il sassuolo ha approfittato della debolezza situazionale dell'avversario i giocatori degli ospiti hanno mostrato una prestazione molto più attiva mettendo lecce sotto pressione fin dall'inizio l'allenatore del sassuolo si è espresso in modo ottimista dopo la partita riguardo alla performance della sua squadra sottolineando che la disciplina e l'impegno del suo team sono stati decisivi per la vittoria al contrario a lecce è stata messa in discussione la volontà di combattere il che ha portato a discussioni interne sulla dinamica di squadra e sull'orientamento strategico in particolare è emerso che lecce ha creato solo poche occasioni di difesa era vulnerabile e il centrocampo non riusciva a esprimere superiorità tecnica questo ha portato a uno stile di gioco caotico che ha permesso al sassuolo di controllare in gran parte la partita un punto di grande attenzione è stato lo stile offensivo aggressivo del sassuolo che ha messo lecce costantemente alle strette con questa sconfitta i giallorossi continuano a essere sotto pressione i segnali di una crisi di forma in bundesliga sono evidenti e la pressione sul allenatore cresce si specula se siano necessarie misure drastiche per riportare la squadra sulla giusta strada le prossime partite saranno decisive per vedere se il lecce riuscirà a imparare da questa delusione ea rialzarsi